Ehi ciao! Allora abbiamo un attimo abbassato la musica perché in linea abbiamo il nostro primo ascoltatore! Ehi ciao! Come ti chiami? Ciao! Mi chiamo Eugenio! Ah ciao Eugenio! Da dove chiami? Ciao! Mi chiamo da Bergamo! Ah che figo! Anche tu sei sperso nella valle più totale! Molto bene! Ci piace così! Ascoltami Eugenio! Cosa farai tu quest'estate? Oppure dici qual è il tuo stile di vita e noi ti diremo qual è la locazione migliore per te! Sacconta voi che faccio quest'estate caro mio! Il mio stile di vita è sfoccare fino alla morte, cadere fino a stare male E buttarsi in spiaggia dopo una serata di merda piena di subito e di caipiridia Ehi! Quindi indovina pure dove andrò quest'estate! Ehi fammi indovinare! Per caso andrai mica in quel posto non così tanto lontano sperso in mezzo al Mediterraneo? Sì! Sì! L'hai indovinato! Ma è per caso! Scusami Eugenio! Ma è quell'isola piena di puttane e romane e gnagne che vengono da ogni parte d'Europa solamente per andare a ballare E poi svenire in mezzo alla spiaggia con tanti piccoli eugeni che gli saltano addosso? Ma tu te ne perderesti mai un posto così? No! Allora dai Eugenio! Vediamoci la prima settimana di questo agosto che viene a Formentera! Vediamoci la prima settimana!